Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Easy Italian. Adesso sono a Napoli con Patrizia, la mamma di Matteo. Ciao! E parleremo di come è cambiata l'Italia negli anni. Andiamo? Andiamo! È aperta molto anche, diciamo, all'Europa, all'estero, quindi sì, direi di sì, in molti aspetti. Diciamo è peggiorata, forse, peggiorata per le condizioni, sono cambiate le condizioni globali, quindi... No, sicuramente positivi. Ovviamente c'è bisogno di tempo, si sta cambiando molto in fretta e bisogna ambientarsi, iniziare a coesistere tutti insieme, però... E il cibo è quello che ci unisce poi, capito, perché dove si mangia bene si ha anche il piacere di farlo assieme. Sì.